È una signora elegante e raffinata, ma dalla personalità sorprendente. Chi la conosce bene la descrive come una persona sensibile, ma al contempo combattiva e a tratti coriacea, come prescritto chi fa politica. Più volte parlamentare, sottosegretario alla giustizia, membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Nel 2018 il Grande Salto diventa la prima donna Presidente del Senato, un traguardo storico che la proietta alla ribalta nazionale, sia politica sia in termini di popolarità. Stiamo parlando, lo avete capito, di Maria Elisabetta Alberti Casellati. Poi un'altra vita, diventa Ministro per le Riforme Costituzionali del governo Meloni, in carico importante ma di scarsa visibilità. Per un anno sparisce dai radar, si chiude nel suo studio, lavora in silenzio, per riemergere prepotentemente in questo novembre con un progetto di riforma del nostro sistema politico, che è da giorni al centro del dibattito nazionale. Sono Marcello Foa, state ascoltando giù la maschera, persone, fatti, notizie, alla ricerca della verità. È con noi il Ministro Alberti Casellati. Buongiorno Ministro. Buongiorno a tutti. Buongiorno Ministro. Lo stiamo trasmettendo in diretta dal Ministero, in Largo Chigi, a Roma, per cui è una location, come si suol dire nel gergo giornalistico, abbastanza inconsueta. Ma siamo lieti che lei ci dedichi questo spazio. E partiamo però non dalla politica, perché a noi interessa molto la persona. Allora, siamo andati a scavare un po' nel suo passato e devo dire che non l'abbiamo trovato tantissimo, soprattutto riguardo alla sua gioventù. Perché ricordo, lei è nata a Rovigo, orgogliosamente veneta, ma ha trascorso molti anni della sua adolescenza a Cassino, in provincia di Frosinone, e i suoi genitori erano però di origine calabrese. Suo padre era un funzionario pubblico ed è stato un partigiano. Che infanzia ha avuto? Devo dire che ha avuto un'infanzia felice, sia pure interrotta dal, fra virgolette dico, trauma dei vari trasferimenti. Perché mio padre, essendo un funzionario dello Stato, era soggetto a trasferimenti continui. Quindi io sono nata a Rovigo, cinque anni, poi le elementari le ho fatte a Trento, ad Aosta, a Fermo e poi in prima media sono approdata a Cassino. Cioè, allora ogni volta uno si costruisce un giro di amici e deve poi, nel momento in cui ha realizzato la compagnia, le persone con le quali ti interfacci tutti i giorni, devi andare via. Sì. Quindi i trasferimenti segnano un po'. Però, devo dire che tutto sommato, ho trascorso un periodo bellissimo, per esempio ad Aosta, dove vivevo in un palazzo che aveva una sorta di cortile e ho giocato moltissimo. Mi ritrovavo il pomeriggio a giocare con tutti quelli, i bambini che abitavano lì e per me era fonte di orgoglio il fatto che frequentavo la seconda elementare e mi avessero affidato un bambino della prima da accompagnare a scuola. Andavo a scuola da sola, mi sembravano grandissime distanze. Nei ricordi di un bambino il fatto di, da casa a scuola, mi sembrava di aver attraversato strade lunghissime. Sono ritornata dopo tanto tempo per vedere questi luoghi della mia infanzia ed erano in realtà tragitti molto brevi. Un'altra Italia, c'è una bambina di sette anni che accudisce un bambino o una bambina di sei anni da sola per strada, cosa che oggi è inimmaginabile. Non c'era il traffico certamente di oggi, forse era molto più sicuro e queste domeniche, perché una volta la domenica coi genitori, mi ricordavo ancora la piazza che ho ricercato dopo tanti anni, dove c'era un bar famoso e mio padre tutte le domeniche ci accompagnava a mangiare le paste, c'era la grande festa della domenica. L'ho ritrovato, esisteva ancora. Ah che bello, sì, era tradizione di un'Italia che forse oggi non c'è più nelle grandi città, forse ancora nelle città di provincia un po' queste tradizioni resistono. Però la cosa abbastanza curiosa a me risulta che lei da ragazza fosse un po', non dico ribelle, perlomeno che rivendicasse con una certa energia le pari opportunità, soprattutto rispetto ai suoi fratelli. Eh sì, noi siamo una famiglia di quattro fratelli, io sono l'unica femmina e la seconda e ho avuto un fratello maggiore molto molto bravo a scuola e mio padre era maschidista. Non glielo posso rimproverare perché quello era un segno dei tempi, però sin dall'elementare sentivo questa diversità nei confronti, nel trattamento, nei confronti di mio fratello maggiore perché io andavo bene a scuola, ma lui era considerato e io no. No, e questa cosa mi dispiaceva, più che mi infastidiva, mi dispiaceva, lo sentivo come una grande ingiustizia e quindi come poi succede, uno comincia a maturare e a formare la propria personalità così che nell'età poi dell'adolescenza io andavo molto bene a scuola e anche alle medie, nel momento alle medie ero a Cassino e in terza media mio padre voleva che io mi iscrivessi alle magistrali perché quello era il percorso di una donna, doveva studiare, andare alle magistrali e sposarsi. Mio fratello maggiore si era iscritto al liceo classico e io avevo trovato intollerabile, per me che andavo bene a scuola, di non avere lo stesso trattamento. Per cui richiesi con molta forza di iscrivermi anch'io, mio padre non voleva, ebbi la fortuna di incontrare per strada alla professoressa di lettere e alla quale ero con i miei genitori e stavo guardando i quadri e dei risultati degli esami di terza media, avevo avuto voti eccellenti e manifestai alla mia professoressa questa mia volontà di iscrivermi al liceo classico così come aveva fatto mio fratello. E lei convince mio padre. Questo per me fu la prima battaglia vinta che poi ha indirizzato anche il mio percorso, perché la stessa cosa successe poi quando in terza classico, alla maturità, dovevo scegliere la facoltà, per mio padre dovevo scrivermi a lettere. Io allora volevo fare il magistrato. Parliamo, perché l'anagrafe è impietosa, parliamo degli anni 65-66, mi iscrisse a Padova, a giurisprudenza, perché volevo fare il magistrato. E allora si erano appena aperte alle donne la possibilità di entrare in magistratura, a me sembrava di voler fare questo percorso nuovo. E mio padre resistette molto, ma il fatto che io mi impegnassi, perché mio padre ci ha insegnato una grande cosa, che dovevamo lavorare e studiare, questo era il nostro compito, e che esistevano prima i doveri e poi i diritti. Però, essendo stato partigiano, avendo combattuto per la libertà e la democrazia, noi siamo vissuti con questi principi, con i racconti della sua prigionia, dei suoi valori. E quindi per me il concetto della mia libertà, del fatto di poter scegliere nella vita quello che volessi fare, è stato molto forte, è un principio che ho metabolizzato bene. E quindi mi iscrisse a giurisprudenza, anche lì, però mantenendomi agli studi. Perché mio padre era funzionario dello Stato, gli stipendi allora non erano certo brillanti, e mia madre, quindi una famiglia monoreddito, era un insegnante elementare, ma aveva provveduto a noi, quindi non aveva insegnato, e quindi mi iscrissi dicendo che avrei preso, come era allora, c'era il presalario, una sorta di assegno di studio, che veniva dato agli studenti meritevoli, nel senso che non avessero grandi possibilità economiche, e quindi potevano con questo assegno comprare i libri, e in più avevo l'esenzione dalle tasse. Quindi mi sono mantenuta sempre con l'esenzione questo presalario, però questo era il presupposto, era la famiglia monoreddito e il disagio economico. Dall'altra parte però dovevo studiare, perché dovevo mantenere i ritmi, nel senso di soddisfare il programma di studi, con voti che fossero nella media di quell'anno, di ogni anno. Alessandra, ti aspettavi una Casellati così, devo dire, coriaccia, lo sapevamo, ma combattiva pur ribadendo i valori familiari. Beh, di sicuro un'Elisabetta Casellati che ha combattuto per il ruolo della donna e che ha raggiunto anche posizioni importanti grazie anche alla sua tenacia, tuttavia c'è un'altra Casellati perché abbiamo ricordato i suoi genitori che erano di origine calabrese e poi soprattutto suo padre Vincenzo Alberti che era di Palizzi in provincia di Reggio Calabria. E qui, secondo le cronache, nell'estate del 1971 si dice che Elisabetta Maria Alberta Casellati sia stata eletta Miss Palizzi. È leggenda o verità? Perché pare che l'ex sindaco di Palizzi, Walter Scerbo, sostenga di avere delle prove e delle foto con tanto di fascia ufficiale. Francamente la fascia non me la ricordo perché non c'è in realtà. No, è successa un'altra cosa che tutte le estati andavo con i miei genitori a Palizzi dove c'è un mare meraviglioso in Calabria e avevano appena inaugurato una specie di locale sulla spiaggia. Era una grossa novità per un paesino e quindi la sera organizzavano delle feste con qualche orchestrina e si cenava. All'interno di una di queste serate, io ero molto giovane, e l'organizzatore aveva pensato, l'ha detto all'ultimo minuto, quindi non c'è stata una gara e non c'è stata una partecipazione, di premiare la donna che riteneva più carina della serata e aveva indicato me. E quindi mi aveva consegnato una coppa, è stato così, non era un'elezione di mis palizzi, era l'elezione di una serata in allegria. Allora stanno arrivando diversi messaggi, alcuni sono molto simpatici, ad esempio c'è un ascoltatore che ci dice, la Casellati mi ha sorpreso per la sua sincerità, la vedevo in un'altra luce e invece scopro che è una di noi. E cose che capitano nella nostra trasmissione che non a caso si chiama giù la maschera. Poi c'è chi dice, anch'io andavo bene a scuola, volevo fare il liceo, ma i miei genitori mi dissero di no, ho ancora l'amaro in bocca, insomma è peccato, sono dei dinieghi di un'altra epoca. Poi c'è chi la vede come Presidente della Repubblica, anzi più ascoltatori, la vedevano bene Presidente della Repubblica. Io ho una domanda da farle, perché in fondo lei finita l'università, poi si sposa, si avvia una bella carriera da avvocato matrimonialista, tutto bene, e nel 1900 una bella famiglia, insomma una vita così felice e dorata a una certa misura, insomma, no? E poi nel 1994 invece decide di entrare in politica per Forza Italia. Ma chi gliel'ha fatto fare? L'incontro casuale con Berlusconi, nel senso che era il novembre del 1993 e io facevo parte di una grande compagnia di amici e ci trovavamo tutti i sabati a mangiare insieme e si discuteva delle elezioni che ci sarebbero state nel marzo del 1994. e io ero molto incerta su chi si dovesse votare. Poi vedo per caso l'intervista di Silvio Berlusconi che sosteneva con molto coraggio la candidatura di fine alle amministrative di Roma del novembre 1993 e fui molto colpita da questa personalità perché ebbe il coraggio di difendere una persona che a quei tempi era vista in un certo modo. E allora una delle mie amiche mi disse a dicembre, che erano nati, non lo sapevo, i club di Forza Italia se avessi voluto iscrivermi e io le chiese uno statuto, di vedere questo statuto, dove c'erano i dieci punti di Urbani e di un programma liberale. Nel gennaio fui chiamata da Giancarlo Galanna, che allora selezionava le candidature che mi chiese se volevo candidarmi per Forza Italia e io risposi che non ero adatta alla politica perché come avvocato ero sempre stato un battitore libero, cioè non mi appoggiavo a un'associazione e questa piuttosto che un'altra e che non mi piacevano tutti i giochi di parole, adesso senza nulla togliere ad Aldo Moro le convergenze parallele, mi piaceva andare dritta al nocciolo delle situazioni, insomma un linguaggio molto complicato. Galanna mi rispose che era allora il mio tempo perché Berlusconi avrebbe innovato la politica anche nella comunicazione e mi fece fare un provino a Milano dove mi trovai insieme, l'ultimo giorno utile per le candidature, lo ricordo ancora, era il 17 gennaio 1994, ci trovammo in tante persone e appena arrivai mi fecero un'intervista televisiva, dopo mi misero di fronte ad un microfono dicendo in tre minuti deve fare delle dichiarazioni su un programma di governo, mi trovai abbastanza spiazzata perché non ero abituata ad andare in televisione e mi fecero molte fotografie, alla fine di questa mattinata uno psicologo ci mise tutti attorno ad un tavolo dicendo quelle che erano le nostre qualità e i nostri difetti. Mi mandarono poi ad una trasmissione come avvocato, me lo ricordo ancora, a Tele Lombardia con il figlio di Calindri dove si dibatteva insieme a Livia Pomodoro che allora era presidente del Tribunale dei Minori sulle adozioni internazionali, poi non seppi più nulla e poi mi disse Galan che mi candidava per aver superato questi test, ero molto incerta perché non mi ero mai allontanata da casa pur lavorando sempre perché ero anche universitaria, facevo l'avvocato ma anche il docente universitario e però la sera tornavo a casa, avevo due figli e il fatto di allontanarmi mi dava qualche perplessità, mi consultai con vari parlamentari di tutti i campi di destra e di sinistra con i quali avevo rapporti di amicizia, mi consigliarono di fare questa esperienza e la fece ed allora è iniziata la mia attività politica. Che l'ha portata lontano e adesso lei ha scritto la bozza di quella che ovviamente è una riforma che dovrà essere discussa in Parlamento per cui non sarà definitiva in questa forma ma una riforma molto importante perché mira a cambiare le regole diciamo così della governabilità di questo paese. ci vuole riassumere proprio in pochissimi flash per permettere agli ascoltatori di capire quali sono gli aspetti essenziali di questa riforma che è stata presentata pochi giorni fa. Gli aspetti essenziali sono due, garantire la stabilità dei governi, non lo dico io, lo dicono i numeri. In 75 anni di storia repubblicana abbiamo avuto 68 governi della durata media di 14 mesi, questo è significato che non abbiamo avuto credibilità a livello internazionale, non abbiamo avuto competitività a livello economico e non abbiamo potuto stabilire rapporti virtuosi all'interno delle nostre istituzioni, parlo delle regioni piuttosto che delle università. Non abbiamo dato la possibilità né ai cittadini né alle imprese di poter programmare il loro futuro. Allora io capisco che quando uno dice questa non è una priorità perché le priorità sono altre, le pensioni, il lavoro, la famiglia, le infrastrutture, tutto quello che è sul tappeto del dibattito politico di oggi che attraversiamo un momento economico molto difficile. Ma nessuna di queste riforme potrà mai realizzarsi se ci sono governi instabili, perché non si possono portare a termine tutte queste riforme. E allora per questo io ho detto che è la riforma delle riforme. E poi l'altro è ridare voce ai cittadini attraverso l'elezione diretta. Per troppo tempo abbiamo visto un disallineamento tra voto dei cittadini e forma di governo. Quindi i cittadini che hanno visto il loro voto finire nel cestino si sono allontanati dalla politica e abbiamo assistito ad un astensionismo galoppante. E anche una distanza dalla politica e quindi io credo che ridare voce riporti, riconcili per così dire i cittadini, la politica li riporti attraverso la partecipazione a riprendersi quello che ad ogni cittadino spetta. Cioè questo voto più diretto rafforza il circuito democratico perché l'astensionismo compromette la democrazia. Assolutamente siamo d'accordo. Alessandra Ghisleri. Beh, allora noi ovviamente come ricercatori dei mercati politici abbiamo fatto delle indagini e quello che diceva adesso il Ministro, ovviamente noi l'abbiamo toccato per mano, nel senso che per i cittadini al primo posto un cittadino su due segnala la necessità di una riforma fiscale, al secondo posto quasi col 20% una riforma delle pensioni, poi verrebbe la riforma delle giustizie con il 17-18%, invece la riforma costituzionale, quindi l'elezione diretta del premio, segue con il 5,7%. Perché? Perché ovviamente le persone, ognuno di noi vede il proprio giardino e pensa che la riforma più urgente sia quella che tocca direttamente gli affari di famiglia, l'economia e anche la possibilità delle famiglie di poter pianificare un futuro non solo dal lato economico ma anche poter stabilire se i figli potranno andare a scuola, potranno reggere su determinati campi. Su tutto questo inoltre noi abbiamo scorporato quelli che sono i principali quattro asset della riforma e quello che ha trovato proprio più successo è l'elezione diretta del premio, nel senso che se non si ottengono i voti il capo dell'estate deve procedere con lo scioglimento delle camere e quindi ricostruire, andare al voto nuovamente. Mentre la nomina diretta del Presidente del Consiglio diventa un termine che divide a metà la popolazione, tra chi è favorevole sicuramente all'elezione diretta ma teme che non sia ben tutelata nella forma di quello che è stato proposto. Allora, quello che io volevo chiedere al Ministro è, lei non crede che se non si trovino i due terzi della maggioranza per poter far passare una riforma di questo termine all'interno delle camere sia necessario andare ovviamente a un referendum e il referendum diventa pericoloso? Potrebbe diventare molto pericoloso perché l'abbiamo visto nel 2006 con Silvio Berlusconi quando ha proposto la sua situazione e nel 2016 con Matteo Renzi. Peraltro il 6 non porta bene da quello che abbiamo visto quindi dovreste riuscire a solidare oltre il 2026 o prima. Cosa pensa Ministro? Io in realtà sono più ottimista perché è chiaro che oggi col caro Bolletta, caro Carrello, il caro delle materie prime tutte le vicende economiche negative che abbiamo vissuto a seguito del Covid, poi le guerre e quindi non ci troviamo certamente in un momento felice. Ma tutte le riforme che noi andiamo a fare non sono incompatibili con questa riforma costituzionale. Nel senso che non è che la riforma costituzionale ci fa dimenticare gli altri problemi che assillano giustamente i nostri cittadini. Io credo che gli altri referendum siano falliti anche perché erano fatti di troppi cambiamenti e di fronte a un referendum la domanda per rendere più consapevoli i cittadini deve essere asciutta e nel senso che noi andremo a chiedere volete essere voi protagonisti del vostro voto? Volete essere voi a scegliere la forma di governo? Perché la riforma costituzionale è fatta di quattro e soltanto modifica quattro articoli, quindi non c'è uno stravolgimento generale. Se guardiamo alla riforma Renzi aveva abolito una Camera, se guardiamo e altre cose, se guardiamo alla riforma Berlusconi c'era il federalismo fiscale oltre all'introduzione proprio del premierato, quindi erano riforme molto più complesse e facilmente, tra virgolette, strumentalizzabili. Noi abbiamo scelto una forma più, diciamo, leggera e minimalista, se si volesse così definire, di riforme proprio perché sia più comprensibile per i cittadini. Del resto bisogna anche chiedersi una cosa, se da 40 anni, dico 40 anni, si cerca di cambiare da destra e da sinistra questa forma di governo, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. I numeri li ho dati prima, nel senso che c'è stata questa successione di troppi governi, di troppi presidenti di consiglio. Allora, i cittadini dovranno considerare che i costituenti non sono riusciti a garantire nel delineare una forma di Parlamento la stabilità, non l'hanno garantita. Del resto, loro stessi avevano detto che la prima parte della Costituzione è una parte presbite, guarda lontano perché è nucleo ai principi sui quali camminiamo tutti i giorni, ma la seconda parte della Costituzione dicevano che è miope perché deve adattarsi a quelli che sono i tempi. Quindi, siccome io ho visto che Calamandrei è il giurista giustamente più gettonato, perché è stato un grande giurista e un grande costituente, però parlava già da allora dell'elezione diretta del Capo dello Stato, addirittura nella forma americana del Capo dello Stato. Quindi, tutto questo stupore, dopo che da 40 anni si cerca da tutte le parti di modificarla, non lo vedo. Bisogna spiegare forse di più ai cittadini, che chiaramente oggi sono preoccupati per le emergenze che ci sono, anche di carattere economico, a che cosa serve davvero? E dicevo, serve a rendere tutte queste riforme attuabili. Perché se no, se un altro paese interroquisce sempre con presidenti del Consiglio diversi, non abbiamo credibilità, non attiriamo investimenti, anche l'economia si blocca. Quindi stabilità significa anche dare fiducia ai mercati. Però bisogna spiegarlo, forse spiegarlo meglio. Stanno arrivando diversi messaggi, come di consueto, per questa trasmissione e gli ascoltatori un po' si dividono in due. C'è chi dice che il ministro Casellati ha perfettamente ragione, io ho vissuto tanti anni all'estero e devo dire che l'instabilità dell'Italia danneggia la reputazione del nostro paese, su questo non c'è dubbio. Poi invece altri dicono, ma c'è una contraddizione, noi dovremmo eleggere il Presidente del Consiglio direttamente, ma non possiamo esprimere le preferenze per deputati e senatori. Cosa risponde? No, ha ragione perché non potevamo mettere in costituzione la legge elettorale. Quindi sulla legge elettorale, io adesso la sto studiando, perché non è semplice elaborare una legge elettorale, devi sempre coniugare il principio della rappresentanza con quello della governabilità. Noi in Costituzione abbiamo inserito il 55% perché questo dà stabilità e governabilità. Quello di cui parla giustamente il nostro ascoltatore è la rappresentanza. Quindi su questo, ne parlerà la legge elettorale, ma la sto studiando e poi mi dovrò confrontare con la maggioranza e con l'opposizione, come sempre ho fatto. Certo, per cui diciamo così, questa riforma ammira, semplifico per rendere il quadro ancora più chiaro per gli ascoltatori, alcune linee guida di fondo e poi l'applicazione ovviamente verrà regolata da una legge elettorale approvata. Per forza, in Costituzione non si può ammettere. Alessandro Ghisleri. Io volevo chiedere, allora, nei quattro punti c'è lo stop alla nomina di nuovi senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica. Ricordo anche che la fiducia nel Presidente Napolitano venne meno quando si abbassò rispetto ai cittadini quando nominò ad esempio Mario Monti. Il tema è che comunque i senatori a vita rappresentano un fiore all'occhiello della nostra società, pensiamo alla senatrice Liliana Segre, pensiamo all'architetto, non mi viene più il nome, e vabbè, all'architetto famoso in tutto il mondo. Allora, la domanda è... Piano diceva. Ecco, piano, grazie, Ministro mi scusi, ho avuto un vuoto. La mia domanda è, sono necessarie l'eliminazione? Qual è il vulnus di questa situazione? Allora, partendo dalla premessa che anch'io ritengo che i senatori a vita nel tempo abbiano dato lustro a questa istituzione. Io stessa ho dedicato a Liliana Segre il mio discorso di insediamento quando sono stata eletta Presidente del Senato, quindi un riconoscimento ad una grande donna. E diciamo che hanno influito due cose. Il primo è stata la diminuzione del numero dei parlamentari. Oggi 200 sono davvero pochi e si fa fatica, già ci sono delle maggioranze al Senato che possono essere molto risicate. Il secondo motivo è cercare sempre di dare sempre di più legittimazione democratica alle varie elezioni. Quindi ci sono stati, e lo ricordiamo, una legislatura del 2006-2008 dove la differenza al Senato era di due senatori e i senatori a vita erano decisivi per le maggioranze. Ora questo aveva portato molti dubbi. Allora, mi ricordo che ci furono reazioni forti, ricordo una per tutti, quella di Cossiga, perché è chiaro che persone sia pure di grande valore, non nominate, non elette ma nominate, andavano ad incidere su quello che era l'andamento di un governo. e quindi l'una cosa e l'altra la diminuzione dei parlamentari al Senato è stata notevole. Certo. Senta, ma hai maletto la riforma è oggetto di dibattito sia giornalistico che politico, ma per evitare il referendum e magari arrivare a una soluzione condivisa, fino a che punto la proposta è emendabile, cioè che tipo di negoziazione avrete con l'opposizione che legittimamente come in democrazia sta sollevando alcune perplessità. Allora, nessun testo è blindato e quindi si discuterà in Parlamento e se gli emendamenti saranno diciamo coerenti con l'impianto di questo testo saranno sicuramente adottati. Devo dire però che io sono partita con una lunga attività di ascolto. Nel nostro programma c'era l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, ho trovato delle resistenze sotto questo profilo, mi sono presentata con una formula aperta mettendo sul tavolo l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e anche del Presidente del Consiglio proprio nella consapevolezza che la Costituzione è di tutti e quindi dovrebbe essere scritta insieme alle opposizioni. Quindi ho fatto un passo all'indietro quando ho visto che c'erano queste resistenze anche se devo dire che nella storia anche del Partito Democratico per esempio con la bicamerale D'Alema aveva proposto il premierato e dopodiché si sono orientati verso l'elezione diretta del Presidente della Repubblica con la formula del semipresidenzialismo alla francese. Nell'ultima legislatura quella del 2018 ci sono stati due disegni di legge Ceccanti e Parrini che proponevano il semipresidenzialismo quindi l'elezione diretta del Presidente della Repubblica ci hanno ripensato è possibile e dopodiché io ho abbassato questa bandierina e mi sono orientata verso il premierato ritenendo di poter trovare un punto di caduta anche rispetto a questo adesso si trovano delle obiezioni dicendo che noi toglieremmo poteri al Presidente della Repubblica non è così i poteri del Presidente sono nella Costituzione rappresentati da nove articoli nessuno di questi è stato toccato allora il confronto ci sarà anche in Parlamento che è luogo naturale del dibattito ed è logico che sia così io cercherò di venire incontro alle stanze di tutti purché dicevo coerenti però se si parte dall'idea che questo testo debba essere scritto sotto dettatura anche no allora ci stiamo avvicinando alla fine di questa chiaccarata dalle messaggi che riceviamo ho l'impressione ma non mi stupisce che in realtà il pubblico non abbia ancora capito bene le grandi linee della riforma perché è stata appena presentata ad esempio un ascoltatore ci dice domanda secca risposta secca con la riforma quindi si passerà maggioritario? Eh non lo so perché la legge elettorale ancora non l'ho scritta quindi su questo mi riservo di rispondere però c'è la questione del premio di maggioranza che ha fatto molto discutere certo il premio di maggioranza per dare stabilità in Costituzione fino al 55% è chiaro che non ci potranno essere salti mortali nel senso che se un premier ha una preferenza pari al 30% non possiamo arrivare al 55% certo quindi ci sarà probabilmente lo dico perché ancora non l'ho preparata e non mi sono confrontata una soglia sì allora noi siamo a pochi minuti dalla fine di questa trasmissione io ringrazio Maria Elisabetta Alberti Casellati per questa lunga chiaccarata ci sono tante domande che avremmo dovuto porle per cui magari ci permetteremo di ricontattarla in un prossimo futuro la mia vita è lunga sì sì è un tema davvero molto importante perché credo che al di là della normale schermaglia politica il fatto che l'Italia possa avere un assetto politico più stabile chiunque sia al governo chiunque ottenga legittimamente la maggioranza sia un obiettivo condiviso Alessandro Ghisleri una considerazione prima di chiudere beh io penso che bisognerà spiegare molto bene ai cittadini che cosa in che cosa consiste come è stato fatto anche oggi la riforma e soprattutto ogni singola valutazione e quale ricaduta potrebbe avere e poi fondamentale sarà la legge elettorale perché la legge elettorale decide chi vince e chi perde a seconda di come vengono calcolati i don't come vengono suddivisi i collegi come vengono calcolati i premi di maggioranza e così via penso che quella sarà veramente la grande sfida certo una seconda di sfida perché noi dobbiamo tenere veramente c'è un punto per me molto importante e autenticamente bipartisan che ha evidenziato il ministro Casellati e cioè il fatto che noi non possiamo vivere in un paese in cui la disaffezione nei confronti della politica della democrazia e delle istituzioni continua a crescere questo è un sintomo molto preoccupante e bisogna trovare il modo di ricucire questo rapporto e coinvolgerli assolutamente sì perché non è accettabile che la democrazia viva nella sfiducia dei cittadini e su questo sono è un tema che personalmente mi sta molto a cuore e mi auguro che questo dibattito questa proposta possa contribuire in maniera costruttiva a raggiungere questo obiettivo ma siamo ormai arrivati grazie